Pensate che anche il Papa Francesco era presente oggi a tagliare al dente di Giorgio Napolitano, ex Presidente e medito della Repubblica Italiana. Poi, il 24 settembre 2023, proprio il figlio di Cristo si è apparesato. Era esposta alla bara, come il corpo di Giorgio Napolitano, avvolta dal tricolore tra la bandiera di Italia, del nostro paese e anche lui era presente come anche le massime autorità politiche del nostro paese, tra cui anche la Russa, la Meloni, Draghi, anche Mario Monti, che abbiamo avuto nel 2011 come Presidente del Consiglio, insomma. Ma la cosa incredibile è che, siccome si è esperto un personaggio politico, fa strano vedere che sia stato presente anche il Papa, ossia il Papa Francesco. Comunque, sì, si è apparesato anche lui. Oggi è il 24 settembre, anche perché purtroppo è morto qualche giorno fa Giorgio Napolitano, 8, 8 anni d'età. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che i funerali ci saranno a martedì, alla Camera, una cerimonia laica come lo stesso Napolitano avrebbe richiesto prima di morire. Ciao da Narrato Italiano, in questo video non può eredere le parole di Mattarella, né di Giorgio Napolitano, né di Papa Francesco, ma solo informare eventuali persone e per rispetto delle coerzioni coinvolti. Ciao a tutti.